Ma sì, ma sì. Tu, Matteo, posso sapere che cosa ne pensi dei tiktoker che fanno Twitch? Tutti falliti. Insomma, è buono perché portano più pubblico per tutti, no? Ma te hai sempre fatto solo Twitch? Io? No, io ho anche YouTube, ho iniziato con Twitch, ma ho anche YouTube, tutto. Ah, ok, ok. Si è fallito, quindi. Esatto. Bruttissimo. Brava. Bruttissimo. Ok, allora, scialla. Bruttissimo messaggio, eh? Oh, mazzo. Qualsiasi cosa tu pensi sui tiktoker che sono approdati su Twitch, scialla, anche se è un brutto pensiero negativo, ti dico solo non fare tutto, capito? Perché non tutti, magari, non portano contenuto. Poi ci sono persone che lo sanno fare e persone che non lo sanno fare, fine. Nessuno lo sa fare bene dei tiktoker, li fanno tutti a caso. E basta. Nessuno ha informa, nessuno ha niente di decente, ma non me ne fotte un cazzo, sincero. Ma? Povero Matteo, scherzava. Piano piano. Poverino, lui scherzava e basta. Piano piano. Piano piano, inventeremo qualcosa di decente. Lui scherzava e basta. Non cazzo, com'è giusto che sia. È normale. Poverino. E come se fai tiktok? Non ci capisci il cazzo? Lo scherzavo e basta. Troll? Eh? No. No, siamo seri. Ma io scherzavo all'inizio, ragazzi. No, ma poi vogliamo parlare seriamente. Vabbè. Poverino. No, 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 non ti so più a percuro, sono sincera. No, ti senti che fai tiktok? Cioè, te li fai? Sì, ne ho fatti due, tre. Ma vediamo, no. Ah, ok, sta all'inizio. Sì, diciamo di sì. No. La capisci già bene la piattaforma? No, manco per il cazzo.